Carissimi amici miei di Ischia e lettori del Golfo, allora questo è il momento che ci ammessere a casa, cioè ci ammessere a casa nostra, perché è un periodo che non sarà lunghissimo, però a madre della Pacenza c'è a casa nostra. Io non vedo l'ora che finisca, ma immaginate il momento che ci diranno che possiamo uscire, che questa emergenza di questo merdo del virus è finita e la prima cosa ci scendere dalla casa, correndo, correrò e non vedi mai un lato di sciaffio traghetta, correrò sul mare e verrò a Ischia, perché è sessata, siamo divertiti, io immagino per Forio, per Casamiscio, per il Porto, per tutta Ischia ci divertiremo, vi c'è fermato con ogni catena, però questo succederà solo se adesso siamo fermi e siamo in casa, amici di Ischia, voi avete un'intelligenza superiore, date l'esempio e ci vediamo quest'estate, che c'è un po' di spettiii!